Bene ragazzi, io sono Martix, bentornati su un nuovissimo video di Fortnite! Raga, questo giro riesco a fare un intro eccellente perché la mia voce sta andando a farsi... Boh, pian pianino anche Martix si ammala, eh, attenzione. Comunque, guardate caso, mi trovo all'interno di una struttura di ghiaccio perché devo dirvi due parole riguardo a qualcosa. No, comunque non va proprio bene questa voce, no, 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 assolutamente no. Preparatevi perché Natale è alle porte e con esso su Fortnite arriveranno nuove skin, in particolare un pacchetto davvero fantastico. Il pacchetto ha il nome di Leggende Polari e all'interno di esso troveremo quattro skin, due backpack ed un imot, ragazzi, c'è da impazzire. La cosa bella è che con l'update di Natale sono stati aggiunti tutti questi easter egg sparsi per la mappa. Come ad esempio queste statue dentro questa struttura che ci ricordano tantissime le leggende di ghiaccio, raga, le ricordate? Abbiamo ad esempio pesce secco qua fuori che, poverino ragazzi, l'hanno lasciato fuori, guardate, mi si è congelato. Povero pesce secco ha preso troppo freddo e adesso si sta ammalando con me. Comunque entriamo, abbiamo poi Operazione Zabbaglione e poi la skin del Cattus, raga, ma cosa ci fa lui qui dentro? Ora fermiamoci un attimo, ma raga, vi immaginate delle lobby con questo bestione qui? Voi contro di lui dovrete affrontare dei player che porteranno questa skin, ma siamo seri? Questa è l'unica skin che, a quanto pare, all'interno del pacchetto avrà degli stili selezionabili. Infatti potrà essere utilizzata con o senza neve addosso. Operazione Zabbaglione congelata è meravigliosa, ragazzi, nulla da dire su di lei, assolutamente no. Pesce secco è quel che è, non si può infamare pesce secco perché, ragazzi, altrimenti no. Lui però, ovviamente, lo andrò ad utilizzare con il backpack di Picco Polare. Esattamente, raga, il backpack che vedete all'interno del pacchetto è proprio Picco Polare in miniatura. E dopo aver fatto quella bruttissima fine, finalmente, posso riportarmelo in spalla. Pochi secondi fa ho detto che il Cattus non sarà l'unica skin con degli stili selezionabili. Esatto perché avremo anche l'elfo, ovviamente, in quanto ci sarà la sua versione normale e poi la versione minti. A proposito di minti, ragazzi, a proposito di minti, ho ben 18 codici minti qua ancora da regalare. Quando li vogliamo dare? Facciamo una cosa, ragazzi, ogni giorno, fino a Natale, poi vedremo se andare oltre, alle 18 sul mio profilo Instagram, tra le storie. Quindi cercate MartexTV, un codice di questi. Ricominciamo con i contest ed il primo partirà proprio quest'oggi. Quindi MartexTV, ragazzi, ricordatevi questo nick. Comunque l'aggiunta di questo pacchetto è similissima, se non uguale, a quello del pacchetto dell'anno scorso, ovvero delle leggende di ghiaccio. Sia perché le skin che dovevano uscire sono state aggiunte poi al gioco tramite delle statue. Infatti all'inizio non si riusciva a collegare questo easter egg perché c'erano delle statue di determinate skin. Alla fine, raga, quelle skin, quel pacchetto, sono stati rilasciati il 23 dicembre. Anzi, in realtà sì, era il 23 dicembre, però era appena scattata la mezzanotte, quindi era la vigilia di Natale, il 24, sì. Credo poi che la stessa cosa accadrà domani. Ecco perché ho voluto fare questo pre-video, giusto per annunciarvi il tutto. Preparatevi, ragazzi, perché farò un video super approfondito sul pacchetto e su ogni skin che ci sarà dentro. Raga, fantastico. Ricapitolando, 4 skin, 2 backpack ed un emot. Data d'uscita 23 barra 24 dicembre. E poi, ultima cosa, il prezzo. Questo dovrebbe essere 19,99 oppure 24,99, ma credo più il secondo, raga. Quindi 25 euro per tutte queste skin, tutti questi pacchetti, tutti questi eccetera eccetera. Vabbè, ci siamo capiti, dai. Comunque, io sto letteralmente amando il fatto di scartare i regali sia in live che qui tramite video. Ok, sono doppi però, ragazzi, è bellissimo. Clicchiamo qua sopra e ci buttiamo subito nel capanno di mezz'inverno. Vediamo che cosa ci aspetta. Andiamo sulla sinistra, povero regalo a destra. Mannaggia, che spreco. Su GKR Martex ieri ho aperto un regalo di questo colore, però non era così rettangolare, anzi era quadrato. Raga, ho trovato una scia bellissima, la prima scia con tre stili selezionabili. Ricordatemi dopo perché ve la devo far vedere. E quindi adesso quale apro? Vado qui, non lo so, ragazzi. Proviamo, vediamo se la becca anche qui, vediamo. Ma che cos'è, una sirena? Vado, raga. Vado, vediamo, vediamo. Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Adesso so che cosa aprire anche sull'altro account. Quarto giorno, quarto regalo scartato, ragazzi. Ci siamo, siamo a ruota. Mi fatti riascoltare un attimo qui, vediamo. Raga, ha un impatto che è indescrivibile. Questi ancora non li ho sul principale, quindi sono un po' euforico. Resquitch effettuato, ma prima dello shop, ragazzi, prima dello shop giornaliero. Devo fare chiarezza su una cosa che in tanti mi avete chiesto sul video mattutino di ieri. Infatti moltissimi si sono chiesti se questo mantello avrebbe avuto lo stesso effetto anche su tutte le altre skin. E sarebbe stato fighissimo, ragazzi, perché se modifichiamo lo stile possiamo utilizzarlo con il cappuccio all'insù oppure con il cappuccio all'ingiù. Ragazzi, ci avevo creduto anche io, ma ecco come si presenta il mantello di Kylo su un'altra skin a random. Sarebbe stato davvero fantastico, però purtroppo non è stato così. Purtroppo no, ragazzi, mi dispiace. Comunque, belli miei, ci siamo quasi, ventiduesima skin. Che dite, all'andiamo aprire questa nuova casella? Non ci posso credere, è quasi finito, ragazzi, non ci posso... No, aspetta, fatemi cambiare campo. Eccoci qua, numero 22. Allora, ho visto già qualcosa di bianco, sembra proprio una testolina bianca. Che skin sono rimaste? Fatemi pensare. Qualcosa di neve innevato. Non ne è, intanto scartiamo. È super liscio, ragazzi. Vediamo. No, ma davvero, raga, non credevo che mettessero questa skin all'interno del pacchetto. Hanno messo anche il leviatano nel calendario dell'avvento, ma serio? Ma è strafigo, guardate quanto è disegnato bene. Bellissimo. È meraviglioso. Oddio, lo amo. Ok che potevano fare la testa trasparente e magari qualcosa di più elaborato, però ci sta, è bellissimo. Poggiate anche lui al suo posto, ragazzi. Mancano solamente altre due skin ed abbiamo completato tutto. Madò, che tristenza. Detto questo, raga, è ora. Esattamente, buttiamoci nel nego soggetti perché ci aspettano nuove skin a quanto pare. Allora, vediamo nego... Che? Cosa è successo, raga? Ancora non ho aperto lo shop e... Mi voleva già buttare fuori. Nevischio ghiacciato. Sta in campana. Allora, raga, ancora devo vedere tutto. Ancora... Cavaliere rosse e bombardiere oscuro nello stesso shop. Ma stiamo scherzando? Cosa vedono i miei occhi? Siamo seri? Ma la Epic mi sta trollando in questo momento. Allora, andiamo a cliccare subito su sta in campana. O che? Allora, ragazzi... Dov'è il mio telefono? Lo devo impostare come suoneria Anzi come sveglia Come sveglia il pre-live Proprio mi sveglio così E poi si va in live Si parte E ora che scioppo? Ne vi schiacciate oppure stai in campana? Questo è il dilemma Dai dai Non potete farmi così Oddio che leggings Ma questa è la neve che cade sui pantaloni Vabbè ma questo fiocco per andare a coprire Ok Sei stata molto furba Brava Mi piace Mi piace Bravissima Per non essere oscena Metti il fiocchetto Bravissima Raga i leggings fan paura Anche il manicotto destro Mi piace come skin Molto lucente Però credo che tra la nuova skin E l'emote di oggi Ci sia proprio un abisso Tra le due No fatemela riscoltare Ma poi quando dabba con le campanelline Che fa così Raga l'avete visto Ci voleva proprio un remix natalizio da parte di Epic Games Niente copyright Lo mettiamo in stream E via Ad assecondare l'emote di oggi Da 500 V-Bucks Abbiamo contagioso E questo è un beat straordinario Sempre assieme a loro Ne abbiamo un'altra Da 200 V-Bucks E neppure lei Scherza mica Eccola qui Giubilo Ci siamo capiti eh Ok Bellissima tra l'altro Dai Operazione segreta Ali magiche E vetturino Vediamo vetturino 800 V-Bucks E lui il compagno Di colpo di frusta Eccolo qui Operazione segreta Poi super skin da 1500 V-Bucks La descrizione dice Non hai visto nulla Va bene fratello Alle magiche invece 1200 Meraviglioso ragazzi Sono davvero magiche Sono paradisiache Non magiche Sulla sinistra Negli oggetti in evidenza Io ho proprio Un incanto Cavaliere rosso E bombardiero scuro Due skin che Non lo so Entrambi quanto Abbiano potuto vendere Su Fortnite Non me lo chiedete Neppure ragazzi 800 V-Bucks Per Ascia Scarlatta Poi andiamo a vedere Bombardiero scuro Che bella che è lei Con questi occhietti Mi fa impazzire Davvero Procediamo Ascoltiamo lui Questa versione da 1200 Unicorni volanti Ed arrabbiati E poi abbiamo Glifo oscuro Un piccone Un deltaplano Non un piccone Perché mi confondo sempre Da 500 V-Bucks Ragazzi Stra 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 Bello Sulla destra Abbiamo tutte le skin Tutte le emot Tutti i picconi Di Star Wars Ragazzi Non manca nulla Anche i deltaplani Gli standardi C'è di tutto Affrettatevi Perché il tutto Sta per andare A concludersi Infatti ragazzi Allora le sfide Un giorno 11 ore 16 minuti Dal momento in cui Sto registrando Che poi Affrettatevi Devo finirle Anche io le sfide Però ragazzi Nel momento in cui Finiranno le sfide Credo che proprio Queste skin Verranno rimosse Per sempre Ragazzi Io però devo fare Una cosa Prima di concludere Let's go Repeat brother Hey 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 Ragazzi Se volete Supportarmi Con un acquisto Del genere Potete cliccare Qui in basso A destra Su supporto Un creatore E digitare Al centro Della schermata Il mio code GKR Martex Tutto attaccato Maiuscolo Minuscolo E uguale L'importante È cliccare su Accetta E riaggiornarlo Ogni 14 giorni Io spero che questo video Vi sia piaciuto Se così fosse Mi raccomando Lasciate un bel like Condividetelo Con tutti i vostri amici Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti Ragazzi Iscrivetevi 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 Noi ci becchiamo Tra pochissimi Live Alle 9 Un salutone Da Martex C'è Plus